musica 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 bandi ragazzi e ragazze benvenuti nel nostro canale di epilogs musica questo è il mio primo video commentato scusate scusate sono un po' emozionato e quindi sono un po' impacciato mi son detto mi son detto mi son detto vado a fare un video un video commentato da cosa inizio da cosa inizio da cosa inizio ho detto perchè non ho un giochino guarda guarda per i cassetti qualche giochino un qualche giochino che non usavo più da tanto che mi sono trovato a Siberia un giochino che quando l'ho comprato mi è piaciuto quel grande anche di grafica mi è piaciuto un po' per la mancata in tempo un po' per la volta non ho mai finito sono arrivato al secondo livello adesso un micro se vanno al livello ho fatto due o tre missioni ho fatto un po' per il tempo un po' la voglia non ho più fatto me lo so comprato anche per session 2 per essere riuscivo a finirlo ma anche a Rita il tempo e la voglia non ho più fatto niente quindi è stato io a prendere muffa nel cassetto fino a oggi cosa dire cosa dire ancora cosa dire ma iniziamo non so più cosa dire iniziamo un po' un po' perfetto confusica YouTube Due minuti e 43 di video 45 io direi di arrivare fino alla camera non l'ho provato ieri perché devo fare le prove video perché è giusto per poi quei 5 minuti di video giusto per fare un po' di video e poi un po' di video di audio tra ieri e oggi quindi quindi fino alla camera sono in memoria un po' un petretino 5 minuti sono in memoria poi sono originito perché come ho detto è una vita che non gioco e non mi ricordo più quando avevo giocato ho fatto due o tre missioni e basta quindi vado un po' per ricordi dopo la camera e un po' per non ricordi quindi è da una vita che non gioco iniziamo per minuti e 46 prendiamo qua speriamo che sia una avventura positiva questa una volta che la faccio magari do l'input do l'input agli altri amministratori del canale perché il nostro canale con più persone che ci lavorano boom lavorano tra virgolette la capitale mondiale dei giocatori meccanici boom non ho pari di leggere lascio un minutino qua così leggete voi se avete voglia mettendo in pausa un minutino il video ed esco tanto la solita minestra e poi boom incominciamo capotto la torta boom questo paraggio vabbè prima come boom questo pezzino di hotel l'ho fatto ho fatto a taglierli oggi per configurare un po' per configurare un po' il microfono e frappos fino a dieci minuti fa che ho capito come impostarlo quando registravo mi registrava tutto con mecco e neanche in galleria neanche in grotta non era così importante aver combinato c'è voluto due giorni fa importante aver combinato e ognuno che bai con su agne chiusi 5 minuti 55 qua farò un dieci minuti dei video vediamo quanto è enorme nella camera penso sui dieci massimo dodici dodici proprio questo è un po' la ciave c'è un po' la ciave c'è un po' la ciave c'è un po' la ciave che ho visto che è un po' la ciave e un po' la ciave e un po' la ciave che è un po' la ciave che è un po' la ciave Questa qua, questa hostess qua sta già pensando per la pensione. E questa hostess qua mi sa che non ti aiuta poco e niente, che è qua di andare in pensione. Vediamo se mi aiuta. Sì, quando si pensa alla pensione, è così. Non sono graficamente giochi come una PS4, però dai è carina la grafica. 8.25 di video. Ecco, l'ho fatta incassare adesso. Questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Questa è un qu�'è dove la pensione on i? 9 minuti 54 io ho detto che il video dura più o meno 10 minuti allora, noi possiamo fermarci qua cosa posso dirvi? mandi, spero che sia positivo questo video qua sono un'avventura positiva perché il mio primo video commentato scusate per imballato che mi ha fatto sembrare un po' impacciato anzi, mi ha fatto sembrare impacciato, non forse mandi, mandi al prossimo video mi ha fatto sembrare un po' impacciato quindi stai magari semplici operario comunque se tu hai dalla candidatura semplici operario semplici operario Grazie a tutti.